Pozze di sangue, la rissa per mettersi di scena. Non abbiamo assolutamente paura. E sono scemo secondo me, che ce la farsi del male. Non ci sono regole. È un bel venerdì, piuttosto che lavorare è meglio stare qui. Siamo sulle Dolomiti, località Pizzetour, a selva di Val Gardena. Questa è la terza tappa del reboot di scesa libera. Questa era la seconda mancia, è andata meglio sicuramente della prima. Arrivati sulla prima curva è un bel macello. Quasi 20 persone, contemporaneamente, devi trovare spazio, farti spazio, assolutamente. Anche perché la visibilità è poca, bisogna andare abbastanza alla cieca. Immaginavamo, forse, divertentissima. E così è. No, siamo arrivati giù, eravamo molto attaccati. Lui ha sfruttato la mia scia e siamo passati la linea da Rio proprio uniti. Magari se c'erano ancora dieci metri in più, magari lui mi sorpassava o io li stavo davanti. È grandissimo perché è una discesa libera, è spirito libero, diciamo, uno più è libero più è discesa.